Fratres carissimi, Dio Patrio Onnipotente, preces nostras per i suon Cristo, ordinato sacerdote. Il suo ministero nel paese natale fu subito il Beato Vincenzo Romano nacque a Torre del Greco, presso Napoli, il 3 giugno 1751. Nel 1831 il sommo pontefice Paolo VI nel 1963 lo dichiarò Beato. La Beata Maria Caterina Casper nacque il 26 maggio 1820 a Dernbach, in Germania. Degenerò rapidamente e la morte sopraggiunse il 5 maggio del...